Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Come avete letto nel titolo oggi giocheremo con la qualità a Epico Cambieremo la grafica ad Ultra Io come vedete ragazzi gioco sempre a qualità bassa ma adesso cambieremo tutto quanto per vedere la differenza Io non gioco ad Ultra da tantissimo tempo quindi sono veramente curioso di vedere cosa cambia 3, 2, 1 Oh mio Dio Oh mio Dio il gioco è 100 volte meglio guardate quanto è bello è veramente bellissimo Andiamo a giocare subito una partita per vedere i cambiamenti in game Adesso vi spiegherò per quale motivo io non gioco mai a qualità Ultra e soprattutto Oh mio Dio guardate quanto è bello il gioco a qualità massima Wow è veramente spettacolare e non ci giocavo da tantissimo tempo Cavolo quasi quasi mi viene voglia veramente di iniziare a giocare soltanto in qualità Ultra Guardate quanto è bello Ora sicuramente ci sarà qualcuno che starà pensando ma visto che fai tanti FPS 160 tutto a qualità massima perché non giochi sempre in Ultra Perché adesso vi spiego allora prima di tutto dove ci buttiamo Io direi di buttarmi a Griffith non mi ci butto così mai Dicevo io gioco a qualità minima per il semplice fatto che Oltre ad avere molti più FPS quindi non rischiare mai di laggare Si vedono anche meglio le persone quindi togliendo le ombre e abbassando la qualità delle texture riesce a vedere meglio una persona a distanza Per cui vi consiglio io di giocare sempre a qualità minima Certo il gioco è più bello a qualità massima è palese si vede È veramente bellissimo giocare a qualità massima però vi posso assicurare che se volete vincere le partite se volete migliorare È molto molto meglio giocare con una bassa qualità Ora mi potrei buttare nella testa qua di gomma gomma perché tanto c'è un rift e ci sono anche ben tre ceste Credo che non ci vada nessuno Mio dio guardate la luce delle ceste quanto è bella È spettacolare ragazzi veramente io non gioco a qualità massima praticamente da quando ho iniziato a giocare a Fortnite All'inizio ci giocavo poi ho visto un video dove spiegavano per quale motivo non si dovrebbe giocare a qualità massima E la qualità minima infatti è migliore e quindi ho cambiato completamente lo stile di gioco Allora potrei anche andare in questa casetta perché credo non ci sia andato nessuno Ovviamente sarà più difficile riuscire a vincere come vedete ragazzi ci sono troppe ombre Le texture sono troppo belle non riuscirei mai a vedere una persona troppo distante Mentre invece se abbassi la qualità di gioco li riesci a vedere più facilmente Ecco guardate quanto è buia per esempio questa stanza ragazzi questa casa è veramente troppo troppo buia Oh mio dio guardate il piccone ragazzi che figo è veramente super super bello devo dire la verità sì sì Tra l'altro se non sbaglio tutti i giocatori di PlayStation giocano sempre a qualità massima Perché forse non si può cambiare forse con la PlayStation non si può cambiare non lo so Comunque come vedete io faccio degli FPS abbastanza stabili ma nonostante ciò potrebbe capitare tipo un pochettino di lag Perché per esempio se dovessi andare in un posto con tante entità questo che è pieno di alberi Mentre combatto tanta gente tanti build oppure tante esplosioni potrei laggare anch'io che ho un computer comunque abbastanza potente Quindi come vi dicevo non è proprio efficiente giocare a massima qualità però per un video questo è altro ragazzi Oh finalmente abbiamo trovato qualcosa di decente beviamoci subito questi scudini tra l'altro là c'è un bellissimo lanciapatate Allora cosa buttiamo al posto del lanciapatate non lo so perché allora il medkit me lo voglio tenere allora buttiamo le granate didiri didiri Ma la posso trovare un'arma migliore per favore una qualsiasi perché sto trovando soltanto armi grigie Ragazzi fa veramente stranissimo giocare con questa qualità non ci ho mai giocato con la qualità così alta guardate quanto è bello il gioco Ok qui su dovrebbe esserci una cesta prendiamola immediatamente tra l'altro ragazzi come vi dicevo non mi interessa molto vincere la partita Perché prima di tutto non sono sicuro di poter vincere con questi settings anzi sono abbastanza sicuro che perderemo Ho veramente tantissima paura di laggare non appena inizio a combattere contro qualcuno o almeno non proprio laggare ecco Però avendo uno schermo a 144 Hz se scendo sotto i 144 fps io lo vedo un pochettino laggoso Voi nel video non ve ne accorgete perché il video è soltanto a 60 fps però io nel mio schermo vedo un pochettino di lag Effetto proprio quello che ci serviva ma soprattutto perché non trovo nessuno siamo in zone Dovrei riuscire a trovare qualcuno no? Ok stiamo attenti perché qua c'era qualcuno ecco vedete ora c'è un problema Ora c'è il problema che a distanza non riesco a vederla la gente Cioè magari c'è qualcuno adesso sulla montagna che mi sta guardando ma io non riesco a vederlo perché ho le texture troppo alte Allora proviamo ad andare verso shift che solitamente ho abbastanza fortuna io quando vado lì c'è qualcuno lassù Oh e chi ha costruito quella roba? Sì là ci deve essere per forza qualcuno Ho bisogno di più materiale dire la verità sono abbastanza messo male a materiali E lì è appena accaduto un drop quindi quasi quasi torno in città per prendermi quel droppicello Sì 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 Ok darmi adesso non siamo messi malissimo volendo No raga vi dico io che c'è qualcuno là Lì c'è qualcuno che mi sta aspettando ve lo garantisco Oh ha aperto il drop Oh mi sparano Ok visto mi sparano dalla montagna e non me ne ero neanche accorto Quindi ci abbiamo qualcuno dentro il burger e qualcuno nella montagna Eh io voglio uscire da qua allora questa è una situazione veramente pessima Dov'è quello sulla montagna? Non ne ho la minima idea perché non lo vedo porca miseria Sapete cosa ragazzi? Esco fuori e l'ho scoperto Così se quello dovesse spararmi cerco di capire dove si trova Oh eccolo qua c'è uno È andato? Oh mio dio che fight imbarazzante Che fight imbarazzante ragazzi Non riesco a combattere con questa grafica È troppo difficile Ok allora rigeneriamo immediatamente Tra l'altro lui aveva un'arma bellissima Ok perfetto ci prendiamo questo Spero soltanto che avesse degli scudi Ragazzi è imbarazzantissimo combattere Scrutatemi se vedrete tipo delle fight bruttissime Ma non ci posso fare niente Non sono abituato a combattere con questa grafica E soprattutto sono abbastanza sicuro di aver laggato Mentre stavo combattendo Ora non me ne sono proprio accorto al 100% Bisognerebbe riguardare indietro il video ma Sono abbastanza sicuro Ok allora sapete che facciamo? Andiamoci a prendere qui Ecco perfetto da dove mi sparano? Credo dalla montagna giusto? Sì è dalla montagna dei rift vedete? Ci sta un tizio là sopra Quindi 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 Ora lui si prenderà un rift per venirmi contro sicuramente Se è intelligente Lo spero se non altro Anche perché io non ho niente Cioè non ho uno sniper per poterlo combattere Quindi che faccio? Non posso fare niente Posso però in realtà Prendermi le granate Didili didili E fare un bel volo verso di lui Ok no si è preso il rift Si è preso il rift Ora mi vuole venire a combattere Vedete? Vedete che sta qua? Ora arriva Ok siete pronti? Non ho molti materiali purtroppo Anzi li ho finiti Perfetto abbiamo finito i materiali Ammi un po' di legna Situazione pessima ragazzi Non abbiamo più materiali E lui si trova qua davanti a me Preso 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 Dai 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 Oh mio dio Che imbecille Che idiota Perché mi ha combattuto in questo modo? Avevo un vantaggio incredibile Io non avevo i materiali E nonostante ciò è morto Ma com'è possibile? Allora prendiamoci sui drop Perché aveva sicuramente qualcosa di interessante Mi bevo subito gli scudini Sperando di non venire sniperato da qualcuno qua fuori Questo sniper no Non me lo prendo Perché non mi fa impazzire sinceramente Questo è mio Purtroppo ragazzi Non abbiamo materiali Ne abbiamo solo 170 Però siamo più o meno in zone E ci sono 18 persone rimaste Quindi se mi curo per bene Prendo un altro po' di materiali Potremmo riuscire a vincere questa partita Allora Ricarichiamo tutte le armi Perfetto Così Oh il P90 lo voglio Sì 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 Prendiamo il P90 Poi prendiamo anche questo Fantastico Ok abbiamo fatto un ottimo upgrade Non dobbiamo fare altro Che farmare un pochettino Ecco Dove? Oh cacchio Oh no 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 Come ha fatto? Mi ha ucciso attraverso un muro? Allora prima di tutto Mi ha ucciso con due colpi Ma io stavo buildando Ok ragazzi Vi sembrerà una scusa Ma non si può proprio giocare a qualità massima Adesso invece sapete che facciamo? Abbassiamo la qualità Quindi vi ricordate per bene la qualità massima Guardate adesso che succede E adesso torniamo con la grafica Tutto al minimo Beh come vedrete ragazzi La differenza è veramente abissale Si può vedere ad occhio nudo La texture è più blanda Non ci sono ombre È tutto un pochettino brutto Ecco però vi posso assicurare Che ciò vi aiuterà tantissimo A fare vittorie reali Quindi non giocate necessariamente Con la grafica più alta Solo perché il gioco è bello Perché giocando con la grafica più alta Avrete infatti degli svantaggi Rispetto a chi sta giocando Con la grafica più bassa Io spero vi sia piaciuto questo video Anche se sono morto in modo scemo Cioè non sarei dovuto morire Ma vabbè Non importa Lasciate un bel mi piace E noi ci vediamo sicuramente In un prossimo video di Fortnite Ciao 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 Ciao